Allora, Ascension nel 2023, wow, incredibile! Non dico che è la prima volta che ci gioco perché ho registrato un video in cui era veramente una delle mie prime volte in modo serio. Però, dato che non ho mai registrato code in modo serio, o comunque recentemente, le impostazioni erano tutte sballate e quindi non mi ha registrato nulla. Peccato, è uscita una bella partita, non sapevo fare nulla. Ma adesso, diciamo, questa mappa ormai l'ho giocata una volta, so cosa devo fare, quindi è un po' più semplice gestire tutto e muovermi nella mappa. Peccato, mi era uscita, per esempio, nella prima cassa la Thunder Gun. Eeeh, wow. I obiettivi di oggi sono trovare la Thunder Gun, perché la voglio, potenziare tutte e due le armi che avrò, arrivare al round 20, in realtà basta aprire tutta la mappa se vogliamo, ma no, vabbè, facciamo solamente questi tre obiettivi che sono abbastanza semplici. E effettivamente sarebbe figo portare una specie di serie, di miniserie, in cui vado a riprendere le mappe che non ho mai giocato, comunque che ho giocato pochissimo, e farci, non lo so, round 20, arrivare a un certo punto della mappa e poi smettere. Qua c'è l'energia, ok. Mi conviene un attimo raggrupparli e farmi un po' di punti. Per esempio, un'altra mappa che non ho mai giocato è Verduct. Wow, quella completamente. Forse sono entrato una volta, ma oltre a piena stanza non ci sono mai andato. Allora, dopo i punti sono finiti, io direi di uccidere l'ultimo zombie e andare ad aprire la corrente. Perché la prima volta che ci ho giocato dicevo, ma perché c'ha questi colori così tanto spenti e tutte queste robe? Ma poi ho capito che basta attivare la corrente e succede il finimondo. Guardate. Belli... Ma dai, bellissimi! I colori... Ogni volta che accendo la corrente, i colori sono sempre più belli. È davvero... Meraviglioso. Non ci sono altre parole. Comunque dammi una bella arma. Eh, dai, è il cecchino. Ah, diciamo che io la... Il quick revive non lo voglio prendere. Non perché poi mi sembra troppo semplice, però... Perché è il cecchino buonissimo, sciotta tutti. Questa sarà la nostra zona bellissima, dove passeremo tutto il tempo. Andiamo a raggruppare quei zombie, così facciamo un po' di punti. Oh cacchio! Non voglio morire, ti prego! Non mi fare mori... Oh no! Oh no 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 no! Oh 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 oh! Se muoio io devo ricominciare a capo, non mi fa! Ti prego! Oh! Ok, quello mi piace. Oh! Ok. Quello mi va pure bene, però sì sì, utilizziamo. Sono in una brutta situazione e sinceramente non voglio neanche morire. Adesso andiamo al jug. Dai, prendilo! Ah, che bello sono tranquillo, finalmente! Madonna, meno male! Meno male! Mamma mia, meno male davvero! Facciamoci un'altra gas. Dammi a Thundergham, qualcosa del genere. L'ho chiamata! È qui! È qui! È proprio lei! È proprio lei! Però non ho armi per sparare. Però è proprio lei, eccola! Vabbè, diciamo come... Come seconda cassa, se non sbaglio. Buonissimo. Ah, me va bene. Certo, come prima avrebbe avuto un impatto diverso. Però comunque, come seconda, me va benissimo. E boom! Certo, non faccio punti, quindi dovrei evitare di utilizzarla, però... Oh, belle le munizioni! Oh mio Dio, doppie munizioni, ma in che senso? E io vado a farmi una cassa, perché... Oddio, poi mi prendo il KN. Faccio una cosa, mi prendo il... Apro qui, mi prendo il KN, che... È una buona arma. E... Beh, si trova il muro. Ah, ti devo dire. Vabbè, dai, prendiamola. Utilizziamola. Così, una è stata fatta. Dove andare alla stamina up? Da questa parte? Ah, 20 punti mi manco. Che cosa carina. Dove sono? Eccoli. Cioè, io ho 20 punti. Vai, apri. Sbrigati. Ok, qua c'è la stamina up, che mi prenderò solamente dopo che le scime sono venute. Perché altrimenti... Me la rubano e non voglio sprecare soldi. Gli basta solamente il jug per ora. Facciamo i punti coltellando. Eh, schifosi non morti. Sgozzatevi. Sì. Uno e due. Mia, carpentieri e doppi punti. Ora penso che ci dovrebbero essere le scimmie, no? Eccole. Eh sì, lo so. Ok. Io mi ricordo che qua c'era... No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Io so che qua c'era la scimmia super potente, tipo buco nero. Però non so se si deve prendere dalla cassa oppure si deve craftare. Ma penso alla cassa. Ah, ma se io dopo ne faccio qualcuna. Mi danno un perk? Non ci posso credere. Io questo non la sapevo sta roba. Quick Revive. Eh vabbè, il gioco proprio mi ha detto, guarda devi prenderti il Quick Revive. Ok, va bene, prendiamoci. Ma non cambia molto. Qua è un posto bruttino per girare, quindi mi tengo la Thunder Gun per... Anche se comunque ora ho anche Quick Revive che non volevo. Ma vabbè, il fatto ha deciso che dovevo averlo per forza. Utilizziamo un pochettino l'arma così. Mi faccio un po' di punti. Ok, stamina presa. Andiamo ce n'è via. Andiamo ad aprire l'altra zona della mappa. Per esempio qui, se non sbaglio. Esatto. Mizzio, mi sono dimenticato di dire una cosa. Iscrivetevi anche a Gioelle. Perché lui è stato a, diciamo, riportarmi... O comunque è sempre lui a riportarmi su Zombie. Cioè, lui ha costantemente voglia di giocare. Mi dice sempre, giochiamo, facciamo qualche partita a Zombie. Io alcune volte dico di no, ma alcune volte dico di sì. Recentemente, quando ho detto di sì, comunque mi è salita un pochettino anche la nostalgia di giocare. Più che altro sono prove. Poi al massimo qualche partita serie si porterà anche con Gioelle se riusciamo. Perché sfortunatamente volevamo registrare qualcosa, più che altro per il suo canale. Perché in realtà in quel periodo non volevo, anche un periodo abbastanza recente. Lui ha un Wi-Fi più potente, quindi ha un altro moderato. Io ce l'ho distretto, quindi non possiamo giocare insieme. Peccato, vabbè, ma non è che possiamo farci molto. E mi ha promesso che porterà contenuti, oh mio Dio. Oh madonna, aspetta, aspetta. Mi sto tolto in difficoltà. Aspetta un attimo. Ok. Questo è il secondo o il terzo che prendo? Non ricordo, forse il terzo. Allora, il razzo è pronto, ok, buono, andiamo. Abbiamo una sequenza di lancio. Bellissima. Cioè, il razzo che parte, oh, ripidivino un grande. Oh, 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 oh! Non ci posso credere. Non ci posso credere! Ma si è distrutto? What? Ma in che senso? Lo distrutto io? Non penso. Comunque sono morto in una maniera così... Babba, mamma mia! Quanto sono stupido! Vabbè, devo farmi i punti per prendermi il jug. Anche se in realtà vorrei provare la bambola matrioska. Aspetta, oh! Ma se io non so come funziona! Mentalmente come faccio a capire che questa cosa mi uccide! Rieccomi! Incredibilmente mi è capitata la stessa identica patia dell'altra volta, con la Thunder Gun Air, la KN. Questa volta in realtà ho utilizzato il bonus dei saldi, ok? Quindi... C'ho cercato la Gabrocam, ma al secondo round mi sono fatto un bel po' di gas e mi sono capito che queste due armi a me sono andate benissimo, per carità. Ah, sì, c'è il razzo! Dov'è, dov'è? Voglio vederlo. Quindi se io gli sparo... No, 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 di nuovo, di nuovo, di nuovo! La stessa cosa stava succedendo, vabbè, bel razzo, vabbè, l'avete vista, è riuscita ieri la mappa. E qua abbiamo il Pack-a-Punch. Il nostro obiettivo è il Pack-a-Punchare, tutte e due le armi. Ah, e questa volta mi è capitata anche, come vedete in basso a destra, le scimmie, diciamo, il buco nero. L'ho provato una volta, è meraviglioso, bellissimo, super potente. Vabbè, utilizziamo la scimmia, che è una figata incredibile. Guardate. Mamma mia. Non ha senso. Non ha senso. Utilizziamo un'altra scimmia. Ammetto che è la prima volta che ho utilizzato in questa partita... Oh, munizioni, guarda che carino. Ok. Sono stato un po' alla larga, perché non volevo finire come le matriosche la scorsa... come la scorsa volta. Volevo andare a potenziare un'arma. C'è la KN, ovviamente. Questo è un problema. Io odio... Ok, 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 il Jug, il Jug. Mi va bene. Tutte qua? No, il Jug? Ma come? Ma quando? Una scimmia! No, il Quick. Madonna mia, dai. Cioè, io sto visionando il Jug e mi hanno tolto quello. Ma davvero? Ma come faccio? Ma esisto? Vabbè, dai. Almeno solamente uno e non sono andati al Stamin Up. Andiamo a pacca panciarci. Che bel verbo. La KN. Così facciamo un bello obiettivo. In teoria non dovrebbero arrivare qua velocemente, dato che ci sono le barriere. Vendicatore consacrato. In realtà potrei potenziare ulteriormente prendendomi, ne so, Alto Forno. Buonotte. Dai, dammi Alto Forno. Ma che è questo grusso? Vabbè, alla fine dovrò giocare in continuazione così, quindi... Boom! Bellissimo, Alto Forno, che bello. Ah, ecco cosa devo dire. Io sto giocando comunque questa mappa perché mi sono visto qualche video, no? Tipo classifiche di mappe zombie o comunque armi. Queste cose, ok, bonus, miniboss. E tra le classifiche che ho visto e le mappe, ho sentito dire che questa era la mappa più semplice di COD. O comunque una delle più semplici. E ho detto, ma proviamo, perché è così semplice? E ora che l'ho giocato un bel po', ho capito un pochettino perché dicono così. Perché, cioè, alla fine non devi fare, non c'è niente da fare come passaggi. Questa zona è incredibilmente favorevole per girare, è molto semplice, è molto ampia, è veramente meravigliosa. Quindi ci sta pure le scimmie, sono qualcosa di senza senso, veramente. I buchi nei sono troppo forti. E poi ovviamente c'è anche la Thunder Gun, no? Quindi basta fare così e... Vabbè, questo in tutte le mappe di Black Ops 1, alla fine. Che cos'è? Mi piace. Devo andare a Pacapunch. Ok. Quindi, Thunder Gun. Potenziata. Round 15. Tutti gli obiettivi fatti. Allora, diciamo che l'ultimo obiettivo di arrivare al round 20, vabbè, dai, lì lo faccio solamente per una questione di completezza. Perché volevo prefissare questo obiettivo come standard per tutti gli altri. Per tutta questa miniserie che voglio fare. Non so ancora come la chiamerò, però comunque, vabbè, sarà tipo zombie al 2023 o comunque. Ci sono mappe che non ho mai giocato. Ok? Veramente. Senza scherzo. Se ho ancora voglia di giocare a zombie, vorrò portare sicuramente anche Origins, oppure di Risen Dracke, facendo partite serie. Perché là non è che si possono fare partite del genere. Comunque non mi piacerebbe perché ci sono tantissimi step da fare, il paka punch, i rituali. La mia mappa preferita ovviamente Origins. Senza dubbio. Io mi prendo sempre il bastone del vento. Oh, marcaspio, no. Il dubbio resto qui. Oh, marite subito. Ma perché due torpi di Tendergum per queste scimmie inutili? Ok, la sento, la sento. Oh, perk. Perk gratis. Oh. Mamma mia, i Widow Swine. Ma sono P. Cioè io se perdo questa partita sono proprio un pollo. Al round 20 ci vuole arrivare per forza. Questo per Gioelle lo devo fare. Grande Gioelle, un saluto. Se Gioelle arriva a questo punto, comunque chiunque è arrivato a questo punto, boh, scrivete nei commenti come se... Come se fosse in grado veramente di richiederlo più che altro. Vediamo, hashtag, che cosa? Hashtag Gioelle guardami. Gioelle guardami. Hai risviato un talento. Nel mio record di round è stato tipo già un 51 se non sbaglio. Su Shadow of Evil avevo fatto la spada, l'ho fatto il servito da Porticon. Giravo sotto nella metro. Però io quella sera dovevo uscire con degli amici. Ero un idiota, potevo dire no, però non avevo ancora la mentalità per farlo. E quindi, caspita. Ho dovuto fare start termina partita. O forse mi sono ucciso, mi sono fatto uccidere. Peccato, potrei arrivare a round altissimi secondo me. Certo, dovevo giocare tutta la notte e certo era sulla Playstation 3. Però peccato. Infatti, cioè, se vediamo qua i round massimi che ho fatto su Shadow of Evil, non penso che ci... Non c'è 50, ok? Ci sa tipo un 20, un 30. Non c'è nient'altro. Vai, di là c'è la falce. Mi compro la falce, dai. Alla fine, nulla di che. Eh, non ho più niente d'altro da aprire, quindi direi che possiamo ucciderci. Bella partita. Mi è piaciuta. Obiettivi fatti, tutti quanti. Certo, a terra 2 non mi è servito il Quick Revive. Più che altro il Quick Revive non lo voglio prendere per la questione di cercare di mettermi sotto pressione e quindi migliorarmi. Allora, voglio andare su, un attimo, sfide. Ok, madonna mia, direi se in realtà che è 48, che io ne trovo è 33, eh. Shadow of Evil 32, infatti è qua Shadow of Evil, però... Un attimo che cerco esattamente che round ho fatto. Round 51. Peccato. Ho fatto 6 a terra, mamma mia. Però vabbè, peccato. Comunque, beh, bei round mi piacciono. Cioè, questo 48 mi piace abbastanza. Vabbè, direi se in realtà che è bellissima la mappa. Mi raccomando, se vi piace questa serie, supportatevi, non so, ditemi qualcosa. Anche se penso che lo porterò lo stesso perché ho voglia di giocarci, quindi chi se ne frega. Devo le vostre opinioni, sì. Ok, ciao a tutti, buonanotte.